Walt Disney Home Video vuol dire avventura, emozioni a non finire. E ora sta per arrivare in videocassetta un nuovo classico Walt Disney. Basil l'investiga topo. Sta cercando di chiarire un incredibile mistero. Avvalendosi della collaborazione del dolce Toby, di Dawson il suo assistente e della piccola Olivia. Tutti insieme contro Rattigan, il ratto più grande del mondo che trama oscuri e diabolici piani. Siete tutti invitati a partecipare al divertimento del nuovissimo classico di Walt Disney, Basil l'investiga topo. Ora in videocassetta.